Ciao a tutti amici orziani vicini e lontani. Oggi è il 19 maggio 2013 e proprio un anno fa avveniva il devastante terremoto in Emilia Romagna. Mentre siamo in attesa che la strada di via Lisonzo venga sistemata una volta per tutte, abbiamo una bella notizia da darvi. Vi ricordate la trappola della rotatoria per Borgo San Giacomo dove un povero ragazzo di Roccafranca ha perso la vita entrando con la sua auto proprio nel fosso che c'era in mezzo alla rotonda? Bene, come potete vedere il fosso è stato coperto. Speriamo di non doverci più occupare in futuro di questo problema. Vi segnaliamo però anche un'altra possibile trappola che qualche genio ha partorito. Il guardrail è stato studiato per non permettere a una macchina in caso di incidente di uscire di strada. Ma se alla fine del guardrail stesso come potete vedere troviamo un palo della luce, capite bene che le speranze di salvezza di una macchina sarebbero pari a zero. Ci troviamo a barco di Orzi Nuovi e speriamo che nessuno venga in mente di fare un incidente proprio qui. Ciao a tutti, alla prossima puntata del TG Orzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.